Ricordare attraverso la solidarietà, l'Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano non dimentica la vicinanza concreta manifestata subito dopo il terremoto del 2002 dalla popolazione dell'Emilia-Romagna, che oggi vive il dramma del post-alluvione. Allora, vent'anni fa, le enormi difficoltà vissute in modo particolare dalle comunità del Basso Molise trovarono nel buon cuore di tanti volontari un sostegno reale. arrivarono tanti aiuti in Molise. Questa mattina al Liceo Scientifico di Santa Croce la dirigente di oggi Giovanna Fantetti e il preside di allora Michele Fratino, insieme a docenti, studenti e genitori, hanno voluto ricordare il passato, ripercorrere tappe indelebili e con la raccolta solidare vogliono continuare a fare memoria. Abbiamo voluto praticamente incontrare tutti i rappresentanti della nostra scuola perché abbiamo raccolto un fondo di solidarietà. Questa iniziativa è stata fortemente voluta dall'omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano perché è nel solco del ricordo, è nel fare memoria. Solo ricordando possiamo fare anche solidarietà. Non dimentichiamo la vigilanza degli emiliani e dei romagnoli nei momenti bui e tristi del 31 ottobre del 2002. C'è chi in quelle settimane, mesi e anche anni dopo il terremoto, ha fatto scuola prima nelle tende, e poi in prefabbricati le richieste di aiuto, di intervento delle istituzioni erano sempre più marcate, più accorate. Oggi il liceo è nell'edificio rigenerato. La somma raccolta dalla scuola, da studenti, famiglie e docenti è stata donata alla protezione civile. Il segno della solidarietà è fondamentale per guardare al futuro un contributo di cuore a una popolazione, quella dell'Emilia-Romagna, che oggi soffre e combatte.